Quante volte osservando gli altri ballerini avete desiderato il loro movimento, la loro capacità di spostare il proprio corpo e la coppia lungo la pista in modo diciamo più pieno, più aggressivo? Quante volte vi è stato detto che fate i passi troppo piccoli, che spingete poco? Bene, in questo settimo episodio parleremo proprio di questo. Sono Massimo Meini e vi do il benvenuto in Danza Express, il format di SOS Danza dove andiamo a costruire delle esercitazioni da fare in pochissimo spazio per migliorare il proprio ballo. Oggi ci eserciteremo a spingere di più. Sì, sono tornato. No, 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 non c'entra niente, ero così freddi. Per noi ballerini spingere di più significa riuscire a dare l'energia della gamba che detiene il peso per spostare il corpo in profondità lungo la pista, ovvero fare anche quello che all'occhio esterno sembra dei passi enormi, che poi in realtà non è affatto così. È tutto tradotto in uno spostamento del corpo. È indubbio che qualsiasi persona, anche a digiuno di ballo, tra due coppie che spingano in modo differente, si tenda sempre a preferire la coppia che spinge di più, che muove di più. Questo perché permette di creare una serie di energie maggiori, di sviluppare maggiore energia durante il ballo. Ovviamente si parla sempre a parità di livello tecnico, perché se una coppia per spingere va avanti storta in questo modo, è ovvio che non sarà mai piacevole all'occhio esterno. Attraverso queste complesse ma chiare esercitazioni capiremo come risvegliare dopo 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato tutti i nostri muscoli di spinta per far sì di avere un movimento profondo con la minor fatica, con un movimento spontaneo che venga pilotato in modo molto inconscio. Per non perdere nessuno di voi lungo il percorso ho creato una progressione graduale in varie fasi in modo che tutti piano piano, passo dopo passo, potete esercitarvi e sviluppare queste capacità necessarie per avere una buona spinta. Prima però di proseguire nei video vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivare la campanellina in modo che tutti i nostri video vi arrivino direttamente sul vostro smartphone con zero pubblicità, mettere like al video e condividerlo in modo che tutti gli appassionati di ballo possano entrare a conoscenza di SOS Danza. Se avete visto i primi tre episodi della serie Danza Express usciti molto tempo fa, le prime tre puntate sono dedicate proprio al lavoro dei piedi, alla spinta in profondità, alla spinta in allevazione, alla discesa da un'elevazione, ai principali movimenti che possiamo fare magari durante un ballo. Inoltre sul nostro canale potete trovare tantissime pillole, tantissimi speciali interamente dedicati al lavoro dei piedi. Quindi diciamo che sul lavoro dei piedi vi abbiamo abbastanza scattavetrato i... Ma non finisce qui, perché? Perché non è fondamentale soltanto conoscere il giusto lavoro dei piedi, ma è anche importante avere la massima attivazione muscolare quando si cerca di creare un movimento, perché molto spesso si inizia per lavorare correttamente con il tacco, magari dare una piccola spinta con il piede sinistro per trasferire il corpo, ma non si arriva mai alla giusta percezione di quello che è il nostro vero massimo potenziale. In questo episodio andiamo a vedere il ruolo fondamentale della cosiddetta standing leg, ovvero la gamba che detiene il peso. E il 90% degli errori che derivano appunto da questa gamba che dà l'energia, che molte volte non viene utilizzata nel modo corretto, perché? Perché si ha una scarsa percezione di quello che è il nostro peso del corpo sopra questa gamba. Quindi è fondamentale capire come tutto il peso del nostro corpo, escaria sulla gamba che detiene il peso, deve essere gestito e sfruttato al massimo per attivare nel modo corretto il piede, la caviglia e la muscolatura appunto di spinta di tutto il corpo. Quindi se non avete ancora visto le prime puntate di Danza Express, gli speciali magari dossier dedicati ai piedi, vi invito a cliccare qui sopra sul link che vedete nell'alto del video, che vi rimanderanno a queste puntate, oppure ad andare proprio sul playlist del nostro canale e troverete tutte le vecchie puntate dove potete fare un ripasso generale, perché oggi andremo a vedere di quei movimenti che abbiamo descritto nelle prime puntate, andremo a vedere a fare il focus su un piccolo movimento, ma diventerà importantissimo. E quindi l'esercizio che faremo sarà molto complesso e stimolerà la vostra percezione in un modo molto più, diciamo, elevato di quello che abbiamo visto nelle prime puntate. Andiamo quindi a vedere qual è il primo step di questo esercizio per risvegliare la potenza della cosiddetta standing leg. La prima fase di questo esercizio per dare la massima spinta e finalizzare al massimo la spinta della standing leg è appunto un esercizio che dà priorità all'appoggio del peso della gamba davanti, che questa volta, come solamente come esercitazione, sarà appoggiata con tutto il peso a terra. Noi dobbiamo riuscire tramite la pressione della gamba sinistra a far scivolare la gamba destra in profondità, in profondità. Se vedete, il mio ginocchio sinistro parte da qui, che è leggermente flesso, spinge, sto dando pressione dalla gamba sinistra, dalla gamba sinistra, spingo dalla pianta del piede, fino a che appunto la spinta della gamba del piede non arriva a distendermi la gamba completamente. Questo è il massimo che posso fare a livello, ovviamente, di gamba. Quindi ho spinto dal piede e ho disteso la gamba. A questo punto ho terminato l'azione e posso tornare indietro. È importante non fare la classica spaccata, ovvero il movimento in questo modo qua. In questo modo qua si vede appunto che sto scivolando solamente dalla gamba davanti e non si avrà un miglioramento dell'azione. Si deve vedere come se, sempre con il solito piolino, questo movimento da qui, io devo spostare. Non tirare un calcio con questa gamba al piolino rosso, ma si deve usare la gamba sinistra per spostare quello che non è un piolino, ma è un foam roller che ha un'utilità ben specifica, che se avete seguito le lezioni dell'alena danza saprete benissimo di cosa stiamo parlando. Vediamo come appunto la pressione della gamba sinistra darà l'energia per spostare la gamba destra, che sta facendo attrito, sta facendo la massima resistenza, perché ho tutto il piede attaccato e mi permette di spostare il foam roller che ho davanti, fino ad arrivare alla massima spinta, quando non ce n'ho più. Da questa gamba sinistra io ora non ho più spinta e non ho più possibilità di fare altro. Possiamo farlo sia con la gamba destra che con la gamba sinistra. Se vedete da qua io faccio questo movimento, metto il piede e sento la spinta della gamba destra che mi porta tramite la caviglia e tramite il ginocchio che sono flessi, a spingere, 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 poi andare oltre e distendere la gamba. È fondamentale vedere appunto che la gamba destra, o la gamba sinistra, la gamba che spinge, arriva da flessa a usare il ginocchio e la caviglia in avanti, che spingono, 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 e fino ad arrivare a un punto dove la spinta porta alla distensione completa della gamba. Questo è il primo esercizio da fare per riuscire a spingere e sentire la percezione della gamba d'appoggio, perché avendo una buona resistenza nella gamba davanti, specialmente se magari mettete con le scarpe da ginasta e avete un po' di attrito, sentirete che farete fatica a spostare la gamba davanti, ci vorrà molta pressione della gamba di dietro. Per questo è fondamentale appunto anche quando si balla non avere le scarpe che scivolano sul pavimento, perché se io ho da spostare questa gamba e mi fa attrito e resistere contro il pavimento e mi scivola la gamba di dietro, ovviamente avrò la vita molto più difficile. Quindi questo esercizio spinta fino a che riesco ad arrivare. Poi mi torno indietro, spingo, fino a dove riesco ad arrivare, stendo la gamba. Da qui ritorno indietro. Tutta azione della gamba destra, tutta azione della gamba sinistra. La gamba destra crea solamente una resistenza sul pavimento. Se avete osservato bene, quindi il primo step di questa esercitazione vi porterà a percepire la forza che voi avete nella gamba, che voi avete nei muscoli di spinta della gamba di appoggio. Questo grazie alla gamba davanti che non andrà a scalciare e cercare la profondità, ma bensì sarà salda a contatto col terreno nel tentativo appunto di creare il giusto attrito. Perché più attrito fo' con la gamba davanti, più attrito eseguo con la gamba davanti e più riesco a generare forza con la gamba di dietro. Ma andiamo a vedere la seconda esercitazione che andrà ad aggiungere alcuni particolari che ci permetteranno di generare ancora più forza dei nostri muscoli di spinta. Nella seconda parte della nostra esercitazione andremo a fare sempre il solito attrito con la gamba davanti, ma non lo faremo a tacco in terra della gamba dietro, ma andremo ad alzare leggermente il tacco della gamba. Ovvero, inizieremo la nostra prima parte con il piede che fa attrito, spingo dalla gamba sinistra e ora alzo il tacco. Alzare il tacco, se vedete ora lo faccio leggermente di profilo, alzare il tacco della gamba dietro permette di avere ancora più pressione, perché oltre alla distensione del ginocchio, quindi all'estensione del ginocchio vi permette di dare energia, avrete anche la spinta di tutto il piede. La spinta di tutto il piede vi permette di fare ancora un pezzo ulteriore. Quindi ritorniamo, spingo dalla gamba, alzo il tacco e spingo fino in fondo. Ritorno indietro, spingo dalla gamba, alzo il tacco e spingo fino in fondo. Ritorno, spingo dalla gamba, dalla gamba, alzo il tacco e vado fino in fondo. Tecnicamente il tacco si dovrebbe alzare quando la gamba passa sotto il corpo, quindi se io passo sotto il corpo, la gamba, il tacco si inizia a alzare e quindi qui è già in spinta, è già in spinta e il mio corpo si muove tramite la pressione della pianta e farà distendere il ginocchio e distendere anche appunto il piede fino all'ultimo punto. Stesso movimento lo possiamo fare guardando appunto il movimento del piede destro, quindi la spinta del piede destro e il movimento a sinistra. Piede saldo a terra, andrò ad alzare il tacco destro, quindi il tacco destro si alza, andrò ad alzare il tacco destro però non portando il peso sulla gamba davanti. Il mio peso rimarrà sempre sulla gamba destra, soltanto alzo un pochino il tacco. Vedete? Alzo leggermente il tacco, anche pochi millimetri, per sentire il piede che mi spinta. Non vado assolutamente ad alzare il tacco per portare il peso sulla gamba davanti, se no trasferisco il peso e ancora non mi sono spostato. Ma si vedrà il piede che resiste, resiste a questa pressione della gamba destra, è la gamba destra che alza il tacco per andare a dare ancora più attrito, ancora più attrito, ancora più spinta, ancora più spinta, fino a spingere fino in fondo. Questo movimento deve essere coordinato fin da subito. Appena spingo alzo il tacco. Appena spingo, se vedete, alzo il tacco. Alzo il tacco, spingo, 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 spingo. Ora in questo punto io, vedete, se ci scivolo leggermente sul pavimento, quando arrivo in fondo mi viene di scivolare il piede. Se lo fate appunto su un pavimento corretto per ballare, oppure magari esercitate con delle scarpe di gomma, sentirete molto attrito e quindi sentirete molta più forza e potete fare da questo piede in spinta per distendere il ginocchio e distendere anche il piede. Questa esercitazione da destra a sinistra. Prima destra, destra spinge alzo il tacco, sposto in profondità e poi ritorno. Se vi è piaciuto questo episodio di Danza Express ricordate di mettere like al video, condividerlo e iscrivetevi al nostro canale. Noi ci vediamo sul nostro prossimo video, sempre su SOS Danza, la casa dei ballerini.